Ciao a tutti e bentornati su Viaggiamo Easy. Oggi siamo qui per portarvi in un viaggio virtuale attraverso le splendide spiagge di Formentera, famosissima isola spagnola. Preparatevi ad immergervi nelle acque cristalline ed ammirare le spiagge mozzafiato con la classifica delle migliori 5. Iniziamo con la spiaggia Illites, famosa per la sabbia bianca e fine, le acque turchesi e il paesaggio mozzafiato. Non solo offrono ambienti lidiaco per rilassarsi e prendere il sole, ma è anche un luogo perfetto per praticare sport acquatici come lo snorkeling e la vela. Al quarto posto troviamo la spiaggia Cala Saona. Questa spiaggia incantevole è conosciuta per le sue formazioni rocciose uniche e le sue acque turchesi che sembrano dipinte da un artista. È un luogo ideale per rilassarsi e godere un panorama spettacolare. Non dimenticatevi di portare la vostra macchina fotografica perché catturerete la bellezza di questo luogo incantevole. Salendo nella classifica, al terzo posto abbiamo la spiaggia Marie-Jean. Spiaggia che si estende per diversi chilometri lungo la costa meridionale di Formentera ed è celebre per le sue sabbie bianche, le acque limpide e i paesaggi suggestivi. È il luogo perfetto per una passeggiata romantica lungo la riva o per rilassarsi al sole godendo della tranquillità e della bellezza circostante. Arriviamo al secondo posto con la spiaggia Sessi Letesse. Questa spiaggia è senza dubbio una delle più famose di Formentera grazie alla sua sabbia bianca come la neve e le acque cristalline che sembrano uscite da una cartolina. È il luogo ideale per trascorrere una giornata di relax, prendere il sole e fare il bagno in un'atmosfera parasisiaca. E finalmente al primo posto abbiamo la spiaggia Playa di Levante. Questa spiaggia è un vero paradiso sulla terra. Infatti con la sua sabbia bianca come la farina e le acque azzurre che sembrano fondersi con il cielo è una delle spiagge più amate di Formentera. Ideale per godersi il sole, fare una nuotata rinfrescante e semplicemente ammirare il panorama mozzafiato. E qui abbiamo concluso la nostra classifica delle migliori 5 spiagge di Formentera. Spero che abbiate apprezzato questo viaggio virtuale e che abbiate trovato utile questa lista per pianificare la vostra prossima vacanza a Formentera. Ricordatevi di lasciare un commento e di condividere il video se vi è piaciuto. Ci vediamo al prossimo video.